Sono Guido Giarelli, professore ordinario di sociologia generale all'Università Magna Grecia di Catanzaro e coordinatore nazionale della sezione di sociologia della salute della medicina dell'Associazione Italiana di Sociologia. Avendo studiato attentamente la documentazione relativa alla rete civica della salute della regione Sicilia, devo dire che a mio parere essa rappresenta un unicum nel panorama della sanità italiana per quanto riguarda un problema comune un po' a tutti i sistemi sanitari, ovvero quello del cosiddetto deficit democratico degli stessi, cioè la loro cronica intrinseca carenza di forme di coinvolgimento, di partecipazione e di controllo da parte del cittadino sia singolo che associato. La rete civica della salute è infatti un esempio di democrazia partecipativa nella quale l'iniziativa autonoma dei cittadini si fonde e viene valorizzata nell'ambito della struttura istituzionale del servizio sanitario regionale siciliano in collaborazione anche con i comitati consultivi e aziendali in particolare. Quindi è una forma di cittadinanza attiva in qualche modo, di empowerment dei cittadini nella logica della sussidiarietà orizzontale che non significa come vorrebbero alcuni semplicemente apertura al privato, quanto invece inclusione della società civile nella coprogettazione delle politiche pubbliche, nelle quali il ruolo dell'ente pubblico dovrebbe essere di stewardship, cioè di promozione e regolazione della sussidiarietà circolare, nonché di valutazione dei suoi risultati. Molto dipenderà io credo da come questo esperimento di partecipazione verrà effettivamente realizzato. Da questo punto di vista credo che il ruolo della formazione per l'acquisizione delle competenze necessarie dei riferimenti civici della salute, così come la valorizzazione della loro autonomia, della loro capacità propositiva, costituiscono un po' i due elementi fondamentali per garantire una effettiva inclusione di cittadini consapevoli, riconosciuti e coordinati dal Servizio Sanitario regionale per promuovere il protagonismo civico e la sussidiarietà orizzontale. Insomma è una sfida culturale, politica e organizzativa, ma che partendo con il piede giusto si può sperare di vincere. Buon lavoro! Se vuoi contribuire attivamente al miglioramento della salute in Sicilia ed essere protagonista della crescita della comunità e del territorio, diventa riferimento civico della tua città. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!